Le città calabresi sono purtroppo negli ultimi posti delle gradatorie della sostenibilità delle città italiane e con queste azioni noi puntiamo a spingerle per migliorare la qualità della vita dei cittadini, dei servizi, della vivibilità. Noi stiamo provando a mettere delle condizioni affinché in certi segmenti a distribuzione urbana delle merci le nostre città si trovino a poter competere con le migliori città europee. Ogni anno c'è una quantità di spedizioni decisamente superiore al doppio dell'anno precedente. Consideriamo che non è soltanto il problema della consegna dei beni non deperibili, non parliamo solo di questo. Oggi c'è un food take away consegnato in condizioni di incremento formidabili. Questo ha modificato tutto il sistema di distribuzione. Allora se si riesce a creare delle condizioni perché questo sistema funzioni meglio allora pensiamo di aver fatto un buon servizio alla collettività e quindi ai cittadini. Grazie. Grazie.